Oggi, primo maggio, è giorno di festa e il mio ringraziamento, insieme all'augurio più caloroso, è rivolto a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori in ogni parte d'Italia. La festa deve risvegliare speranze e impegni condivisi, ma per farlo deve fondarsi su parole sincere. Soltanto così contrasteremo la seducia. Sul lavoro si fonde la nostra Repubblica. Tuttavia, probabilmente affermiamo questo principio con convinzione, avvertiamo, come una ferita lacerante, nel corpo sociale e nello stesso tessuto democratico del Paese, la cifra così alta di nostri concittadini che non trovano occupazione, che sono stati espulsi dal processo produttivo, che lavorano saltuariamente nella precarietà, non riuscendo così a vivere con stranità con i propri familiari. Tante lettere che ricevo da nostri concittadini confermano questa drammatica situazione. Padri, madri, talvolta nonni, non chiedono nulla per se stessi. Non lamentano i forti sacrifici cui si sottopongono per aiutare economicamente figli e nipoti. Chiedono speranze futuro per i loro ragazzi. È un appello, insieme angosciato e dignitoso, che non possiamo lasciare senza risposta concreta. Non faremmo onore al primo maggio se non fossimo capaci di guardare con adeguata presa di coscienza e con solidarietà questa condizione inaccettabile che deve continuamente spingere le istituzioni, le imprese, le forze sociali e sindacali a far di più.